Mi è stato affidato questo intervento in questa sessione sulla ricostruzione e sulla necessità della costruzione della sinistra anticapitalista e sulle problematiche e le difficoltà che questa costruzione ha. Ovviamente non è un compito facile, risolvibile in una quarto d'ora di intervento, proverò a disegnare un quadro nel quale collocherò una proposta che come sinistra anticapitalista facciamo. Quindi lo scopo del mio intervento non è tracciare il quadro della situazione italiana in questo momento, ma è più che altro dare delle coordinate entro le quali ci dobbiamo muovere e fare una proposta concreta su un possibile percorso di ricostruzione della sinistra e di ricomposizione politica e sociale. Lo farò per punti, in modo che il ragionamento sia un po' più chiaro, più schematico e anche più veloce. Spero con questo di non essere troppo sintetica e di raggiungere allo stesso tempo l'obiettivo. Non parlo della crisi economica e sociale sostanzialmente per due motivi. Primo perché ci disperderebbe da quello che è lo scopo di questo intervento. Secondo perché di fotografie sulla situazione italiana ce ne sono tante, le potete leggere sui giornali, ci sono i dati dell'Istat, ci sono i dati di tante altre organizzazioni che ci dicono ogni giorno come evolve in peggio la situazione economica, sociale e a questo punto anche politica italiana. Quello che non trovate sui giornali è il mio intervento e la proposta di sinistra anticapitalista in questo senso. Quindi mi concentrerò su quello. La seconda questione, dove collocare questa proposta, è la questione dell'unità. Sicuramente quando agite nei circoli locali, quando fate delle attività politiche, quando vi confrontate con le persone ma anche con altri compagni, avrete sentito che c'è un'esigenza di fondo verso l'unità. La domanda principale è perché non vi unite in questa situazione di grave crisi, perché non create l'unità. Ora, anche su questo credo che bisogna essere chiari. Per noi di sinistra anticapitalista, l'unità di cui parliamo non è un'unità di tipo ideologico, non è un'unità di forze di sinistra che si richiamano magari ad un passato che pensiamo essere stato perfetto. L'unità è un'unità che parte dal basso, che parte dalle lotte, che mira la ricomposizione politica e sociale, che vuole creare, chiamateli come volete, dei fronti comuni che hanno un obiettivo. E l'obiettivo è per l'appunto quello di rifiutare e di respingere le politiche di austerità che sono alla base della crisi economica che viviamo. Ovviamente non si tratta di un percorso facile, non è un percorso privo di ostacoli, ma non è neanche un percorso che può essere, che può avere delle scorciatoie. Credo che un momento storico come questo ci imbonga di fare una strada un po' più difficile, un po' più complessa, più ricca di ostacoli, ma che forse può essere più soddisfacente. Credo che questo percorso abbia molto a che fare con le fatiche della pianura di cui parlava Franco nella relazione conclusiva dello scorso anno al seminario fondativo e che poi anche Fabrizio ha richiamato nell'introduzione a questo seminario. e ovviamente di tentativi di ricomposizione politica e sociale non è che è il primo che facciamo. Ce ne sono stati altri ai quali abbiamo anche partecipato e continuiamo a partecipare come sinistra anticapitalista. Mi riferisco solo nell'ultimo anno ai percorsi che abbiamo fatto in rossa, anche alla partecipazione, per noi in maniera diversa, al percorso della lista Zipras e partecipiamo con un intento, anche se questi percorsi di ricomposizione sono contraddittori, danno adito a delle discussioni, cambiano, variano. Noi partecipiamo sempre con lo stesso spirito, che è quello di provare in una fase molto complessa in cui non ci sono mobilitazioni sociali, in cui non c'è la facilitazione delle lotte, delle manifestazioni in piazza, della gente che ti segue, quella di provare a costruire comunque dei percorsi che stimolino quelle cose lì per cercare di ricostruire un sentimento tra chi subisce le politiche di austerità che qualcosa può cambiare. Noi lavoriamo quotidianamente a questo obiettivo e interloquiamo con tutte quelle forze politiche che hanno questo orizzonte, cioè quello di costruire per l'appunto una ricomposizione politica e sociale e lo facciamo anche in condizioni magari che non sono, in cui sembra che non ci siano ricadute immediate. Faccio un esempio, in Piemonte ci sono state le elezioni regionali anticipate, come sinistra anticapitalista abbiamo partecipato ad un percorso complesso, complicato, anche di discussione alle volte in cui ci siamo scontrati, però alla fine è nata una lista alternativa al PD di Chiamparino che rappresentava i poteri forti del Piemonte e della città di Torino è nata questa lista che al di là del risultato elettorale molto modesto era nata già dal tentativo di un percorso sociale, di costruire insieme un percorso sociale ma che soprattutto dopo le elezioni quel gruppo ha continuato a vivere, continua a vedersi e si pone il problema di come continuare ad agire in Piemonte all'interno di assenza di mobilitazioni anzi in presenza di una mobilità, vi ricordo che a dicembre ci sono state le manifestazioni dei Forconi una delle città che ha vissuto momenti più drammatici da quel punto di vista è proprio la città di Torino quindi da quell'esperienza lì era nata l'idea di costruire un percorso sociale contro le politiche di austerità che poi è sfociato nella costruzione della lista quindi credo che ci dobbiamo confrontare anche con questi momenti qua che sono momenti che provano a cambiare qualcosa nei rapporti di potere e nelle relazioni che ci sono all'interno della società il compito che abbiamo di fronte, cioè quello della costruzione di una sinistra anticapitalista che abbia degli obiettivi anticapitalisti credo sia complicato da una serie di fattori cito solo i più importanti fattore numero uno secondo me è la demoralizzazione e l'incapacità da parte di chi subisce le politiche di austerità e della classe lavoratrice di vedere un'alternativa di società e questo è un effetto che è nato dopo anni cioè è stato costruito dopo anni e anni in cui si è parlato dell'inutilità della politica dell'inutilità delle istituzioni dell'inutilità di essere attivi all'interno della società per cui la gente si ritrova dell'inutilità del sindacato aggiungo anche questa cosa qui cioè noi ci confrontiamo con persone che sono sostanzialmente demolarizzate ma che soprattutto non vedono un orizzonte diverso rispetto a quello che stiamo vivendo secondo punto di difficoltà la violenza e le falsità dei capitalisti e della stampa che contribuiscono a creare un clima di falsa coscienza rispetto a quello che loro fanno cioè quando parliamo con le persone quante ne incontrate che sono convinte che il capitalismo sia un sistema economico naturale che è nato con l'uomo e con l'uomo morirà cioè quante ne incontrate che sono convinte che le politiche di austerità le dobbiamo subire perché non c'è nient'altro da fare quante persone incontrate che pensano che veramente abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità quante persone incontrate che pensano che non esistano più le classi sociali che la società non sia più divisa in classi questo è quello con cui ci confrontiamo e questa cosa qui continua ad essere agitata in maniera ideologica da capitalisti e dalla stampa in maniera molto molto forte e non è un elemento da sottovalutare altro elemento ancora che complica la situazione il quadro sociale e politico che cambia continuamente e che continuamente si acuisce con il governo Renzi la situazione è ulteriormente peggiorata entreremo in una nuova fase delle politiche di austerità in una nuova fase in cui le politiche di austerità colpiranno ancora più profondamente in cui si cercherà in maniera ancora più profonda di dare un colpo definitivo a tutto quello che viene chiamato modello europeo che non è nient'altro che il modello dei diritti e del welfare che è stato costruito durante tutto il corso del Novecento dalle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici cioè si tratta di questo sostanzialmente di uno snodo storico importante superato il quale nulla torna più come prima in maniera semplice ovviamente non siamo i soli interessati ad un percorso di ricomposizione politica e di ricomposizione sociale con questo cosa voglio dire che non esiste solo la proposta di sinistra anticapitalista e di ricomposizione sociale esistono anche altri tipi di proposte dei quali dobbiamo essere coscienti che esistano non dobbiamo far finta che non esistano ma dobbiamo anzi guardarli e capire quali sono i motivi per cui si avanzano altre proposte di ricomposizione con questo a cosa mi riferisco è notizia di ho letto oggi che ad esempio c'è qualcuno che ritiene che Civati sia un personaggio con il quale si può parlare e con il quale si può fare una ricomposizione politica sinistra una ricomposizione però che guarda al PD una ricomposizione che guarda a quel partito che gestisce le politiche di austerità in Italia una ricomposizione che viene dal fatto che è un sentimento che c'è all'interno della società e che viene da una convinzione ben precisa e che noi respingiamo però dobbiamo conoscerla, dobbiamo capirla ed è l'illusione che basta correggere i lati più truci i lati più violenti delle politiche di austerità che basta un po' di presenza dello Stato in più che bastano un po' di incentivi pubblici in più che basta un po' di condizionamento a sinistra perché la crisi passi e perché si ritorni ad una situazione precedente alla crisi economica secondo noi questa è una posizione illusoria perché non fai conti con il fatto che c'è un disegno da parte della borghesia europea in questo caso e lo stiamo sentendo con gli interventi del compagno greco con l'intervento anche di Roselin poi magari vedremo anche in Spagna e in Germania quello che succede c'è un disegno ben preciso a cui facevo riferimento prima che è quello di farla finita con i diritti e con un certo modo di gestire il welfare in Europa è la distruzione di tutti i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici quindi non siamo di fronte ad una crisi passeggera non siamo di fronte a questa cosa qui siamo di fronte ad uno snodo ad uno snodo epocale detto questo vengo alle cose pratiche qual è la proposta che facciamo noi come sinistra anticapitalista è una proposta che abbiamo discusso anche all'interno del coordinamento nazionale è una proposta che abbiamo inserito all'interno di un documento di analisi della situazione italiana ed è una proposta che uscirà a giorni poi verrà pubblicata e questo documento verrà pubblicato anche sul sito noi proponiamo un percorso di costruzione delle mobilitazioni un lavoro in tutte le città e anche un'assise nazionale cioè una sorta di stati generali delle forze politiche e sociali che sono contro le politiche di austerità un luogo comune nel quale discutere senza invincimenti senza ideologie discutere insieme le forme di lotta i momenti di mobilitazione sia a livello locale che a livello nazionale per creare appunto questo fronte contro le politiche di austerità ovviamente proprio per il fatto che la nostra proposta non è l'unica sul campo e non esiste soltanto un'idea di ricomposizione di ricomposizione politica e sociale anticapitalista noi pensiamo che non possa essere una proposta che si muova all'interno di una scatola vuota noi pensiamo che debbano esserci delle discriminanti base che ci permettono di agire e di essere e di fare poi dei percorsi che abbiano una finalità ben precisa che siano utili non tanto a noi come organizzazione ma che siano utili ai lavoratori e alle lavoratrici che siano utili al cambiamento dei rapporti di forza perché questo è quello che determinerà il cambiamento all'interno della società si tratta di questo o vinciamo noi o vincono loro in questo momento stanno vincendo loro per vincere noi bisogna invertire i rapporti di forza per invertire i rapporti di forza c'è bisogno di un percorso che sia aperto ma che abbia appunto queste discriminanti minimi che sono il rigetto delle politiche di austerità e quindi di conseguenza logica la completa alternatività al PD che è il partito che gestisce le politiche di austerità in altri termini si direbbe che è il nostro nemico di classe sostanzialmente e non si possono fare accordi col PD o si può pensare ancora di continuare a condizionare le politiche del PD non esiste, sono troppo forti rappresentano la parte più forte che c'è in questo paese rappresentano l'insieme delle forze borghesi che è fatto non soltanto dei più grossi capitalisti che dominano in Italia ma c'è dietro la stampa c'è la magistratura anche che lo vediamo nell'esperienza delle lotte della Valsusa e ci sono tutti potentati economici, bancari eccetera 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 la seconda caratteristica deve essere la non subalternità alle burocrazie sindacali che sono a loro volta subalterne al governo e alla convindustria su questa parte qui credo che possa giocare un ruolo importante possono giocare un ruolo importante sia le correnti del sindacalismo di base sia un'opposizione come quella che è nata in CGL del sindacato è un'altra cosa nel senso che è assolutamente necessario che si lavori perché ci sia un'unità dei lavoratori non a partire dal sindacato al quale si appartiene al quale si è iscritti ma a partire dalla piattaforma politica e programmatica che si mette in campo sia dalle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici in questo momento poi altre due discriminanti sono un'azione o uno spirito politico volta a favorire la costruzione democratica dei movimenti e infine la pluralità e la democrazia all'interno della coalizione da costruire credo che queste sono le discriminanti minime necessarie perché si possa parlare di costruzione di un percorso in senso in senso anticapitalista questa proposta quindi nasce dal fatto che noi crediamo fortemente che ci sia la necessità in questa fase storica di costruire una vasta aggregazione politica per poter intervenire come dicevo prima con efficacia nei luoghi di lavoro e a favore dei lavoratori e delle lavoratrici ma siamo anche convinti del fatto che la nostra azione diciamo è uno stimolo diciamo dobbiamo concepirla come uno stimolo all'azione politica sapendo bene che non è possibile prevedere quando è che ci possono essere le mobilitazioni cioè che possono venire delle mobilitazioni quando non ce l'aspettiamo però dobbiamo essere preparati ad affrontare quelle mobilità sapere cosa andiamo a dire a chi si mobilita ad avere un progetto per chi si mobilita evitando che poi ci siano diciamo aspetti di di dispersione perché poi va a finire così che magari per perché la crisi è forte perché si vivono delle condizioni di lavoro e di vita personale molto complesse magari ci si mobilita anche però se non c'è un progetto di lungo respiro entro il quale incanalare le lotte va a finire che oggi nascono e domani possono anche e domani possono anche morire continuando ad alimentare la continuando ad alimentare la diciamo il clima di demoralizzazione che già è forte in questo in questo paese la difficoltà le difficoltà del momento le frammentazioni della sinistra le difficoltà che ci sono nel lavoro sindacale e tutto il quadro sociale e politico che non vi ho descritto ma che conoscete cioè non ci sonerano dal fare questo percorso cioè ci siamo chiamati storicamente non è un dovere morale come diceva prima prima Franco perché siamo a favore dei lavoratori perché è un dovere storico che come rivoluzionari come marxisti abbiamo in questo momento anche se è difficile anche se è complicato non siamo essonerati da fare questo infine un'ultima considerazione e poi chiudo il mio intervento io credo io credo anche se anche se magari ancora non ben coordinata anche se frammentaria anche se in mezzo a mille difficoltà il fatto che ci sia la nostra proposta cambia cambia la realtà secondo voi sarebbero possibili per quanto fragili e per quanti compagni ci hanno invitato a non illuderci e a non pontificare su alcune esperienze che ci sono che ci sono di piccole lotte in Italia però secondo voi se non ci fosse l'azione generosa da parte di compagni che ogni giorno si sforzano sui luoghi di lavoro di dialogare anche con altre forze politiche con altre forze sindacali potrebbero esserci cose come quelle che ci ha descritto ieri Sauro nella logistica piccole o cose come quelle che ci ha descritto Adriano o anche il tentativo di trasformare le date del 10 di ottobre e del 14 novembre cioè provare a spingere perché siano date di mobilitazione unitaria cioè se non ci fosse il lavoro da parte di questi compagni di queste compagne non ci sarebbe neanche questo tipo di percorsi che sono piccoli sono ancora frammentari certo che è insufficiente ovviamente questo ancora questo tipo di lavoro ed è per questo che noi avanziamo quel tipo di proposta che ho delineato prima perché nessuna organizzazione a sinistra che ha in mente di lottare contro le politiche dell'austerità è sufficiente a se stessa saremmo perdenti se non iniziamo ad intraprendere percorsi di percorsi di unità ma aggiungo ancora un'altra cosa questi percorsi non possono vivere solo di parole devono vivere poi sui territori cioè c'è bisogno che nei territori nei circoli locali nei luoghi di lavoro si faccia pazientemente questo lavoro di ricostruzione perché a parer mio c'è l'isolazionismo il settarismo ma anche l'illusione l'illusione che si possa tornare indietro si pagano si pagano e quindi è necessario che ci si spenda con generosità per fare questo tipo questo tipo di percorsi aggiungo solo un'ultima considerazione che questi percorsi hanno maggior senso se li inseriamo all'interno di percorsi di solidarietà davveri con gli altri compagni e con gli altri lavoratori e lavoratrici che in tutta Europa vivono le stesse condizioni che vivono i lavoratori e le lavoratrici italiane quindi c'è la solidarietà verso i lavoratori e le lavoratrici greche o verso i francesi o verso i lavoratori e le lavoratrici tedesche non può essere ancora una cioè deve essere praticata in maniera concreta deve essere uno degli orizzonti di lavoro della nostra organizzazione insieme all'idea cioè insieme al lavoro di ricostruzione di ricostruzione di ricostruzione di ricomposizione sociale e politica grazie grazie